Muro contro muro, scontri violenti tra militari della K4, la forza nato a guida italiana presente in Kosovo e manifestanti serbi. Incidenti e violenze scoppiate alla fine di una giornata di altissima tensione a Svechan, nel nord del paese, che ha lasciato 30 soldati internazionali feriti. Tra questi, 14 sono del contingente italiano, tutti del nono reggimento alpini L'Aquila. Nessuno è in pericolo di vita, gli altri sono ungheresi. È fortissima l'opposizione serba ai nuovi sindaci di etnia albanese, da poco eletti ed appena insediati nei quattro maggiori comuni del Kosovo a maggioranza serba. Dopo ripetuti avvertimenti e appelli ai manifestanti, i militari della K4 hanno cercato di disperdere la folla, per la maggior parte nazionalisti serbi delle frange più estreme. Così sono cominciate le violenze, tra lacrimogeni e bombe assordanti, spari, lancio di sassi e molotov. Una guerriglia proseguita per ore, il premier del Kosovo ha condannato gli attacchi, così come il governo italiano, a partire dal presidente del Consiglio Meloni, il ministro della difesa Crosetto e il titolare degli esteri Tajani, che ha sentito sia il presidente serbo che il primo ministro kosovaro, ribadendo che la violenza è inaccettabile e invitando alla calma. È una protesta che incendia il Kosovo, nuove tensioni che rischiano di far precipitare la situazione nel cuore dei Balcani e che fa temere un'escalation. Già da due anni va avanti la cosiddetta crisi delle targhe, al confine tra Kosovo e Serbia. In queste ore però, nuovi raduni e proteste nel nord del paese, che stanno impedendo ai neosindaci di raggiungere le rispettive sedi municipali.